Come dice il nome fa riferimento alla legge 180 e opera nell'ambito della salute mentale e quindi si adopera la nostra associazione proprio per migliorare le condizioni di vita delle persone che hanno un disagio psichico e quindi si occupa sia di promuovere attività sia promuovere anche incontri per il superamento dello stigma, azioni anche di sostegno ai familiari o alle persone che soffrono di problemi di salute mentale. Quindi questo è l'ambito in cui si muove il Comitato 180. Il livello di coinvolgimento è diverso nella nostra associazione che comunque è un'associazione che opera prevalentemente nel territorio di Bassano con Aganci e anche però con i gruppi di automutuaiuto del Vicentino perché anche un'altra attività importante è la formazione di gruppi di automutuaiuto, soprattutto per familiari. Quindi diciamo che circa 100-150 persone, poi chiaramente anche queste 100-150 persone sono soci oppure promuovono determinate attività, un numero più ristretto proprio lavora in maniera più intensiva e quindi diciamo che il collegamento anche con le persone varia molto.